un po' lo tolava lì no, l'illuminazione un po' 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 Alzo pastore, compito via! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il corso gratuito è www.mesmerism.info Per l'intercessione guida l'intelligenza E la mano del pezzo è risana alle garantie della vita soprattutto la vita di la città e la città e la città per sé di noi e non impedire la dignità di cui sappiamo come il segno in merito a noi per Cristo nostro Signore amico di gloria e onore dal coronato Signore e gli hai dato potere su come la vita di mangio O Dio di potente e misericordioso, che hai dato al Vescovo San Piaggio, carità geniosa, nel soccorrere i fratelli e in vita costanza tra i tormenti del maligno, concessi di evitare la sua tenta e figlia e di godere del suo padrocinio nelle tribolazioni della vita. Per Cristo nostro Signore, amico. 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 Amico.